Se si ha poco tempo per allenarsi, 40, 50, 60 minuti per allenarsi, e il proprio obiettivo è quello di avere un miglior fisico, quindi mettere più massa muscolare volgarmente, ecco c'è da sapere che è tranquillamente fattibile. Magari 40 minuti dobbiamo adattarci un attimo, ma in questo video ti vado a spiegare tutto. E tendenzialmente non hai bisogno di spendere un'ora e mezzo, due ore in palestra, molto spesso chi ci passa tutto questo tempo e ha come obiettivo quello di mettere massa muscolare, in realtà nella maggior parte dei casi finisce per fare troppe serie, troppo volume, esercizi ridondanti, quindi potrebbe ottenere più risultati togliendo un po', quindi facendo un po' di pulizia, al proprio programma di allenamento, allenandosi meno, accumulando meno fatica, meno danno muscolare e mettere più massa muscolare. In questo video qua comunque se hai 40, 50, 60 minuti ti insegnerò esattamente come andarti ad allenare stando alle ultime informazioni scientifiche perché sì, se è la prima volta che vedi un mio video, il mio nome è Edoardo Baldini, questo è il mio canale, sono qua da 8 anni, e da 8 anni a questa parte riporto ogni giorno, sono praticamente l'unica persona che da 8 anni a questa parte ha sempre fatto un video al giorno, perché sto seduto qua, mi leggo tutto ciò che gli studi scientifici ci dicono e li vado a riportare in un video al giorno, quindi niente sentito dire, teorie inventate da me, no? Chiaramente però dobbiamo essere sinceri, io e te, nel senso che chi ti va a vendere invece metodologie di allenamento in 20 minuti, in 25 minuti, ecco, con l'obiettivo di mettere massa muscolare, purtroppo ti sta tirando praticamente una sorta di sola, nel senso che in 20 minuti quello che puoi andare a fare è un allenamento cardiovascolare, che sì, un po' di massa muscolare te la puoi andare a mettere, però se tu vuoi ottenere veramente risultati concreti, se hai 50 minuti, 60 minuti, puoi fare tutto. Se ne hai 40, dobbiamo un attimo adattarci, in questo video te lo vado a spiegare, però ecco, se hai 20 minuti, qualcosa otterrai, per carità, però ecco, non è il modo di ottimizzare. In questo video qua invece andiamo a parlare di come andare ad ottimizzare. E quello che c'è da dire è che quando parliamo di allenamento, dobbiamo fare una distinzione, ovvero che possiamo andare ad allenare un muscolo una volta a settimana o più di una volta a settimana. Stando alle informazioni scientifiche, entrambe le opzioni vanno bene. Se però andiamo a fare una multifrequenza fatta benissimo, non come nella maggior parte dei casi dove le schede fanno veramente schifo, dove magari ci sono tre esercizi per il gruppo muscolare, vengono date quattro serie per ciascuno, quella è una cozzaglia, un'insalata di infiammazioni edema che non è massa muscolare, con un po' di parmigianino sopra, una delizia questa insalata, ecco, no. Se la multifrequenza viene creata ad opera d'arte, può essere superiore alla monofrequenza. Ma entrambi gli approcci, monofrequenza e multifrequenza, vanno bene. Quindi già da qui comprendiamo che a prescinde da quanto tu vogli andare ad allenare un muscolo, puoi ottenere risultati e ne puoi ottenere anche importanti. Se ti andrai a creare il programma in autonomia e non hai grandi competenze, è molto più facile andarci a creare un programma in monofrequenza invece che in multifrequenza, perché in monofrequenza almeno hai sette giorni, se vai ad accumulare troppa fatica e troppo danno muscolare in sette giorni, si spera se ne siano andati. In multifrequenza è molto difficile che una persona vada a creare un programma sensato se non ha delle competenze. Io in questo video ti vado a spiegare come andartelo a fare, tieni però in considerazione che sempre magari un po' il rischio di sbagliare ci sarà. Però ecco, monofrequenza e multifrequenza vanno entrambi bene. Terzo punto, in questo video qua io supporrò di andarsi ad allenare tre o quattro volte a settimana, che tendenzialmente è quello che ho visto, avendo a che fare con migliaia di persone tutti i mesi, essere un po' per la maggiore. Chiaramente però ti darò anche dei riferimenti a quello che tu ti volessi allenare di più. Attenzione che però allenarsi di più non è sempre la cosa migliore e più volte noi ci andremo ad allenare all'interno della settimana, maggiore dovrà essere la nostra comprensione di come andarlo a fare. Perché? Perché molte persone, di nuovo, su tre o quattro giorni è più semplice non sbagliarsi. Su 5 e 6, se tu utilizzi il quinto e il sesto allenamento, come l'avresti fatto se tu ti fossi allenato tre o quattro volte, è sbagliato. Perché hai molti più allenamenti e quindi devi gestirteli molto più bene. Quindi non solo la monofrequenza è più facile da creare rispetto alla multifrequenza, ma allenarsi tre o quattro giorni a settimana è molto più facile in termini di crearsi la scheda rispetto a 5 o 6. Tra l'altro, se non ti sei ancora iscritto, hai già compreso di che pesantezza e non hai ancora visto quello che andremo a vedere adesso. Quindi se ti iscrivi così YouTube, Ti consiglio a tutti i video in continuo aggiornamento, tanto è gratis, e almeno tu non devi più ascoltare le cavolate che ti dicono là fuori. E in linea generale, vatti a muovere per ciascuna sessione di allenamento con quattro, massimo cinque esercizi per gruppo muscolare. Sia che tu opti per una monofrequenza, sia che tu opti per una multifrequenza. Si potrebbe puntare a più esercizi? Sì, ci possono essere delle eccezioni, sicuramente si potrebbe arrivare a 6 se magari vuoi inserire gli addominali. In questo calcolo non tengo in considerazione gli addominali. Potresti anche, se non fai gli addominali, arrivare a 6, sì, ma devi veramente avere una grande comprensione di quello che stai facendo. Io in questo video qua ti voglio dare i punti cardine, in modo tale che a prescindere da quale sia la tua competenza e la tua esperienza nel crearti il programma di allenamento, tu sappia farlo. Quindi quattro, cinque esercizi per sessione di allenamento, assicurandoci che chiaramente gli esercizi non siano ridondanti. Nel senso che tu non vada ad avere esercizi che praticamente vadano a stimolare il muscolo nello stesso identico modo, e che quindi ci facciano sprecare uno spazio per un esercizio quando ne potevi mettere un altro che magari completasse il precedente oppure fosse per un altro gruppo muscolare. Punto successivo, per riuscirti ad allenare con questa fascia di tempo, assicurati che il numero delle ripetizioni nella maggior parte degli esercizi non sia superiore alle 10. Nel senso che non è necessario andare a superare le altre ripetizioni. Nessun muscolo reagisce meglio alle altre ripetizioni. Se un personal trainer te l'ha detto, è uno sfigato, non si basa sulle informazioni scientifiche, si basa sul sentito dire, sul sottobosco che si crea nelle palestrine che vengono tramandate di mese e mese, di anno in anno. E se vogliamo anche di decennio in decennio, considerando alcune palestre. Ecco, no, nessun muscolo reagisce meglio alle altre ripetizioni. È meglio muoversi dalle 4 alle 10 ripetizioni, considerando che ci fanno accumulare meno fatica. E questa è una cosa buona, perché soprattutto se vogliamo andarci ad allenare più di una volta a settimana, la fatica e il danno muscolare devono essere tenute sotto controllo. Fatica e danno muscolare sono i due principali nemici in una scheda multifrequenza, anche monofrequenza, ma in multifrequenza ancora di più. Quindi basse ripetizioni. Andiamo ad utilizzare un carico chiaramente più alto rispetto a quello delle alte ripetizioni. Assolutamente sì, questo ci permette di avere un reclutamento delle unità motorie massimo sin dalle prime ripetizioni con meno fatica, proprio perché vi saranno meno contrazioni muscolari e quindi è meglio. Anche perché ricordati che ciascun esercizio che noi andiamo a fare porta meno risultati delle serie precedenti. Quindi se noi andiamo a fare 4-5 esercizi e tu vuoi che il quinto sia produttivo, non vuoi andare a accumulare troppa fatica nei primi esercizi perché altrimenti si ripercuote negativamente sull'ultimo e magari l'ultimo ci metti un gruppo muscolare che poi rimane sempre carente perché è l'ultimo e quindi lo stimolo muscolare che riceve è veramente scadente. Ora, da chi ha sponsorizzato questo video? Non è sponsorizzato da nessuno se non da me stesso, che conduco ormai da anni una battaglia contro le schedine sfigate. Quindi se ti hanno abituato a fare delle schedine bruttarelle così in palestra o magari addirittura hai pagato un personal trainer, mi dispiace, che ti ha fatto un programma in questo modo qua, questa è carta straccia, una roba da prendere e buttare via. A meno che tu non sia veramente un completo neofita, hai bisogno di programmi seri, di programmi con le palle, di programmi sensati che ti portino effettivamente risultati. Per questo motivo ho un pacchetto chiamato a scienza dura che ad oggi conta 38 programmi di allenamento. 38 programmi di allenamento significa non schedine sfigate, 38 come si vede qua sono 100 e passa pagine, magari da qui non si vedeva, è meglio vederlo da qui, dove ciascun giorno ti dice cosa andare a fare, quindi come primo esercizio, come secondo esercizio, come terzo esercizio, come andare a progredire di settimana in settimana, numero di serie, numero di petizioni, tempo di recupero. Ogni esercizio, come si vede qua, ti dà anche quello che vedi in celeste qui, il link che ti riporta al proprio video tutorial, in modo tale che tu sappia esattamente come eseguire gli esercizi e ci sono 350 video tutorial in continuo aggiornamento. Tra l'altro, adesso perfetto per questa tematica qua, per chi si possa allenare in poco tempo, è uscita la nuova edizione di Full Body Duro volume 4.0, questa è il 3, è la versione precedente, che ha un programma in multifrequenza che non ti richiede più di un'ora in termini di allenamento, sia per la palestra che per la casa, e all'interno ti va a sfruttare tutto quello che noi stiamo vedendo e che andremo a vedere, quindi se ti vuoi iniziare ad allenare in modo intelligente, con una scheda Full Body, quindi tutti i giorni allenerai tutti i muscoli, che è proprio il massimo per riuscire a mettere la massima massa muscolare, questo è il programma giusto, è anche scontato perché siamo in lancio, la pagina te la lascio giù in descrizione e nei commenti. Ora, quando noi vogliamo andare ad allenare un muscolo tre volte a settimana, stile Full Body Duro volume 4.0, noi vogliamo andare a fare dalle 1 alle 3 serie per gruppo muscolare per sessione di allenamento, significa che per tutto il petto io vado a fare una, due o tre serie e poi lo posso riandare ad allenare dopo 48 ore, quindi il mercoledì, perché in questo modo qua, se noi andiamo a fare tutto quello che abbiamo detto, quindi non esercizi ridondanti e tutte le altre cose, quindi non alte ripetizioni e tutto quanto, il danno muscolare si è ridotto, il danno muscolare per chi non lo sapesse è il nemico che si crea se ci andiamo ad allenare male, per esempio con troppo volume, o con bassi tempi di recupero, perché sì, è importante sapere e ricordarsi che noi fra una serie e l'altra vogliamo recuperare minimo due minuti, due o tre minuti fra una serie e l'altra, ecco che noi possiamo andare benissimo a fare una, tre serie per gruppo muscolare per tre volte a settimana, infatti stando le informazioni scientifiche, perché vedi qui non ci sbasa, perché io penso in qualcosa e dico ehi, io sono un preparatore e lo dico da anni, no, gli studi ci dicono questo e ci dicono che andare a fare nove serie per gruppo muscolare in una sessione porta meno risultati, dati alla mano, carta canta, rispetto ad andare a fare tre serie per tre volte a settimana, chiaramente a patto che siano tutte intense, uguali, perché ecco, è importante ricordarsi che non solo tutto quello che noi abbiamo detto, ma vogliamo anche che le serie siano al cedimento molto vicino ad esso, con molto vicino ad esso intendiamo una ripetizione dal cedimento, se andiamo a fare questo e andiamo a rispettare i giusti tempi di recupero abbiamo bisogno di tanto, 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 tanto meno volume rispetto a quello che le persone sono abituate, infatti la maggior parte delle persone che va a creare un programma in multifrequenza non ottiene grandi risultati, perché? perché va a crearsi programmi con troppi esercizi, con troppe serie, no, giusta intensità, cedimento o una ripetizione da esso, giusto tempo di recupero, basse ripetizioni, ecco che hai bisogno di una, tre serie e puoi andare ad allenare un muscolo altre due volte nella stessa settimana, se vuoi andare ad allenare un muscolo due volte a settimana, per esempio con una scheda upper lower, ecco che puoi andare a fare tre, cinque serie per gruppo muscolare per sessione di allenamento al massimo, se vuoi invece andare ad allenare un muscolo una volta a settimana, puoi andarlo a fare con sei serie al massimo per gruppo muscolare, attenzione, quando io ho detto questi numeri, quindi per la scheda dove alleni il muscolo tre volte a settimana ho detto tre, nella scheda in cui alleni il muscolo due volte a settimana ho detto cinque, e in quella dove alleni un muscolo una volta a settimana ho detto sei, quello è il numero massimo, non è il numero giusto, quello è il numero massimo, che attenzione, non per tutti sarà quello giusto, infatti è fondamentale che tu di allenamento in allenamento ti segni carichi, ti segni le ripetizioni fatte, in modo tale da monitorare, se di allenamento in allenamento vi sia una progressione, se vi sia un miglioramento dei carichi, delle ripetizioni, perché questa è l'unica nostra metrica, per verificare che vi sia una progressione, un miglioramento in termini di aumento di massa muscolare, perché purtroppo guardandoti semplicemente allo specchio, da una settimana all'altra non vedrai grandi risultati, è normale, se vuoi andare ad allenare un muscolo più di una volta a settimana, cosa assolutamente sensata, ricordati che non vuoi andare a puntare su esercizi che mettano troppa enfasi in allungamento, il classico per esempio pre-cercal, che è un ottimo esercizio per i bicipiti, è un esercizio che mette grande enfasi in allungamento, o anche un Carla con i gomiti dietro il corpo, mette una grande enfasi in allungamento, mentre un Carla in piedi con i manubri e con il bilanciere, invece lo mette a metà del movimento, e quindi ci permette di mettere meno danno muscolare sul muscolo, e quindi ricuperare più velocemente e quindi allenarlo più frequentemente, oppure delle estensioni sopra la testa per il trecipite, ci crea più danno muscolare rispetto ad andare a fare un push down con la corda, oppure delle spinte per il pettorale, ci fa accumulare più danno muscolare rispetto ad una pack deck, attenzione non sto dicendo che non vadano bene come esercizi, sto dicendo di non andare magari a fare, se devi andare a fare tre serie, tutti in esercizi in allungamento, perché ci provocano più danno muscolare, potrebbe, non sempre, ma potrebbe non permetterci di progredire negli allenamenti successivi, perché abbiamo ancora il danno muscolare, ricordati che petto, bicipiti e tricipiti sono i muscoli che subiscono più danno muscolare, e quindi subiscono più facilmente rispetto ad altri gruppi, i quadicipiti invece per esempio lo subiscono meno, e quindi se devi andare ad usare un po' di più, meglio, magari per esempio in uno squat, abusare rispetto ad andare ad abusare in delle spinte per il pettorale, mi raccomando poi da non avere esercizi ridondanti, noi abbiamo detto, poi dopo non ti preoccupare ti faccio il recap, che vogliamo andare ad avere più o meno 4-5 esercizi per sessione massimo, ecco che se mi vai a fare delle spinte per il petto con i manubri, e poi delle spinte per il petto con il bilanciere, praticamente stai facendo la stessa cosa, oppure delle spinte alla smith machine di nuovo stai facendo la stessa roba, cerca un attimo di variare in modo tale da non avere esercizi ridondanti, infine, ultima cosa, poi non ti preoccupare ti faccio il recap, se tu fossi veramente a corto corto di tempo, e vedessi che non riuscissi a far rientrare tutto questo, è possibile utilizzare le tecniche cosiddette ad alta intensità, che in realtà non sono ad alta intensità, perché una volta arrivato al cedimento quello è, quindi non è che possiamo andare oltre il cedimento, ma tu devi tenere in considerazione che le tecniche ad alta intensità, come per esempio il drop set, devono essere conteggiate come due serie, e adesso ti spiego non ti preoccupare, allora, supponendo che tu debba fare due serie, ok, per il petto, ok, ti vai a fare magari un esercizio per il petto, supponendo che tu dica, sono a corto di tempo, mi posso allenare 40 minuti, non riesco a fare 4 o 5 esercizi, dove vado a fare una tre serie per ciascun gruppo muscolare, sai cosa posso andare a fare? Vado invece di fare due serie distinte di esercizio per il petto, ne vado a fare una, ok, vado ad utilizzare un numero di ripetizioni non troppo alto, magari intorno alle 6-7, che è ancora meglio, perché ci fa accumulare meno fatica e meno danno muscolare, arrivo al cedimento, recupero giusto il tempo di cambiare il peso, e riparto, avendo ridotto il carico solo del 10%, quindi veramente poco il carico, e provo a fare il numero massimo di ripetizioni, tenendomi su un numero basso di ripetizioni, più o meno 3 o 4, ecco che in questo modo, questo conta come due serie separate, e andando ad utilizzare in entrambe le situazioni, il numero basso di ripetizioni, cercherò quantomeno di ottenere gli stessi risultati di due serie separate, quindi potenzialmente potrebbe riportartene meno, ma se lo fai nel modo giusto, potrebbe portarti lo stesso di andare a fare due serie separate, e quindi posso provare così, oppure posso provare andare a fare delle super serie per muscoli antagonisti, cosa significa questo? Devo allenare il petto e la schiena nella stessa seduta, vado a fare magari un movimento di chest press, e dopodiché senza recupero passo a un movimento magari per la schiena, come per esempio un rematore, e dopodiché recupero i miei 2-3 minuti, e poi rinizio dalla prima serie del petto, se devo andare a fare più di una serie. In questo modo qua è l'unico modo migliore per andare a fare le super serie, senza avere un impatto negativo sul secondo esercizio, derivante dal primo esercizio, in quanto sono super serie per muscoli differenti, e quindi non per muscoli lo stesso, quindi noi non vorremmo andare a fare delle spinte per il petto, e una pack deck per il petto, perché è lo stesso esercizio, in quel caso no, ma per due esercizi antagonisti, stando alle informazioni scientifiche, potresti se le fai nel modo giusto, e quindi non utilizzare alte ripetizioni, tieniti basso, utilizza esercizi stabili, ecco che potresti ottenere ottimi risultati, magari non gli stessi che potresti ottenere, andando a fare le serie separate, magari sì, ma magari se le fai nel modo corretto, potresti ottenere gli stessi. Quindi ricapitolando, se hai 40, 50, 60 minuti per andarti ad allenare, utilizza basse ripetizioni, se vuoi utilizza multifrequenza per ottenere ancora più risultati, non utilizzare esercizi di dondanti, recupera 2-3 minuti fra le serie, assicurati di progredire di allenamento in allenamento, stai attento agli esercizi in allungamento, perché ti possono fare accumulare più fatica e più danno muscolare, soprattutto se ti alleni in multifrequenza, ci devi prestare ancora più attenzione, 4-5 esercizi per sessioni di allenamento, 1-3 serie se ti alleni 3 volte a settimana gli stessi muscoli, 3-5 serie massimo se le alleni 2 volte a settimana, fino a 6 serie se le alleni 1 volta a settimana. Utilizza tutte queste informazioni, e se invece non vuoi stare a pensare, e avere dei programmi sensati, che rispettino tutto questo, e ti facciano allenare in questo tempo, per massimo 1 ora di programmi di allenamento, è uscito il nuovo programma full body duro, volume 4.0, questo è il 3.0, perché ancora non ho avuto tempo di stamparlo, che ti dà tutto, non è una schedina sfigata, sono 100 e passa pagine, con tutte le progressioni da andare a fare, di settimana in settimana, lo puoi consultare dal telefono, da qualsiasi dispositivo tu voglia, o te lo puoi stampare come in questo caso, non sono schedine sfigate, tipo questa roba qua, ogni programma ti dà il numero di serie, il numero di petizioni, tutto ciò di cui tu possa aver bisogno, ne puoi prendere anche solo una, adesso è scontato, perché in lancio lo prendi, ottieni risultati, ciascun programma dura 12 settimane, con tutto ciò di cui tu hai bisogno, c'è il mio supporto a vita, tutte le domande che vorrai, te le toglierai, quindi meglio di così non si può, in alternativa, se no ci sono programmi comunque, per la palestra, per la casa, dai due fino a sette giorni, la metà settimana, per tutte le necessità, dal neofita all'avanzato, per esempio questo è avanzato duro, a volume 8.0, perfetto, anche in questo caso, se ti vuoi andare ad allenare invece, in modo frequenza, e hai massimo un'ora, la pagina, te la lascio, giù in descrizione e nei commenti, così puoi selezionare il programma migliore per te, ricordo che per chi voglia comprendere ancora meglio, la tematica dell'allenamento, della selezione degli esercizi, è uscito il nuovo percorso, ipertrofia senza stronzate, che è un percorso che in 22 lezioni, ti spiega tutto ciò che tu debba sapere, sulla selezione degli esercizi, migliori per ciascun gruppo muscolare, per massimizzare i risultati, e se ti vuoi creare il programma da solo, è un must, lo devi avere, è scontato anche quello, quindi anche quello te lo lascio, giù in descrizione e nei commenti, se hai delle domande sui miei percorsi, su come funzionassero, se potessero fare per te, se non sai quale programma possa fare per te, iscrivetevi a questo numero, iscrivetevi a questo email qua, rispondete a Alessandro, Maddalena a tutte le domande del caso, quindi fateli, sono lì apposta, noi come sempre ci vediamo, tutti genna luna, sempre su questo canale, ciao a tutti, peace.